Ciao guys, oggi siamo a Disneyland! Questa è la 42esima volta che Leo viene a Disneyland, mentre invece per la Vitto è solo la ventesima perché ha solo due anni. Leo, amore, guarda! C'è il pupazzo! Fidi, andiamo a fare la foto col pupazzo? Fidi, muoviti! Ma è bellissimo! Fidi, fidi quello di Leo, ridaglielo! Fidi, fidi, fidi!